Avevano nascosto nei vestiti, anche dentro agli slip, un vero e proprio campionario di droghe. 80 pasticche di ecstasy, 36 grammi di hashish, 17 di cocaina e 33 involucri di chetamina, tutto già suddiviso in singole dosi, pronte per lo spaccio, ma sono stati scoperti ed arrestati dalla polizia di Stato. È successo lungo il tratto a retino dell'autostrada del Sole, dove una pattuglia della stradale di Battifole ha intercettato un Audi A3. Gli occupanti due trentenni, residenti nel Bresciano, con alle spalle numerosi precedenti in materia di stupefacenti, non hanno convinto gli investigatori sui motivi del loro viaggio, visto che tutto sembravano meno che dei vacanzieri pronti a farci una gita fuori porta. Quindi la perquisizione, dalla quale è saltata fuori la droga, oltre a 1000 euro in banconote di piccolo taglio, secondo i poliziotti, provento delle dosi già piazzate sul mercato. Per i due sono così scattate le manette, attualmente si trovano in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la droga, il denaro e l'auto sono stati sequestrati per la successiva confisca. Attualmente sono in corso le indagini finalizzate, tra le altre cose a capire a quale piazza di spaccio i due si fossero già rivolti e verso quale altra fossero invece destinati. destinati.